Fondamentalmente noi archeologi siamo inquadrati nel mercato del lavoro con contratti di tipo atipico, quindi con contratti atipici, prevalentemente a partita IVA con Cocco Pro, raramente con contratti di subordinazione. Ci ritroviamo quindi a doverci improvvisare liberi professionisti in un mercato che è molto scarso di regole, liberi professionisti a fare i conti con un'autonomia che nel nostro caso è particolarmente difficile da realizzare. Il problema più grosso per un praticante legale è il reddito, perché non esiste nessuna infrastruttura né istituzionale né privata né di tipo associativo di fondazione né tantomeno gli ordini che prevedano dei sostegni diffusi. Il massimo rimborso speso che ho ottenuto è 400 Euro al mese, cioè nulla, ovviamente lavorando 14 Euro al giorno. Il problema principale della professione dell'assistente notarile è il fatto che sia sconosciuto, parallelamente al fatto che la società civile difficilmente riesce a cogliere e conoscere quella che è l'attività del notaio e quindi di tutto il mondo notarile che esso rappresenta. Ognuno di noi nel momento in cui perde il lavoro oppure si trova in una situazione di contingenza tipo come l'attuale momento economico non ha tutte quelle forme di ammortizzazione che possano favorire o il reimpiego in un tempo breve oppure possano sostenerlo nel caso in cui di perdita del posto di lavoro. Per la normativa italiana il tipo di lavoro che faccio io, essendo un lavoro tecnico, dovrebbe essere regolamentato solo da rapporti di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato. Purtroppo però, me compreso, siamo moltissimi, tra virgolette precari, cioè non assunti, che lavorano con partita IVA. Il problema delle partite IVA nelle ricerche di mercato è il problema di tutti i professionisti, siamo senza tutele sociali, siamo senza ammortizzatori sociali e quindi siamo un po' come bandiere al vento che vengono buttate a seconda di come va il mercato, a seconda di come si muove il settore e non abbiamo mai la possibilità di dire la nostra e di avere riconosciuti i nostri diritti. Faccio un esempio personale. Dopo aver versato per qualche anno un quarto del mio reddito alla gestione separata dell'Inps, mi sono ritrovato a fare richiesta per i congedi parentali e mi sono stati negati, perché seppur teoricamente aventi diritto, poi non c'era per motivi procedurali, non riuscivo appunto ad ottenerli. In fondo tu non sei un libero professionista ma lavori per qualcun altro, lavori per qualcun altro ma a contempo sei considerato come un lavoratore autonomo, come una partita IVA, non hai tutele, non hai possibilità di azione e soprattutto non puoi esprimere poi la passione che è alla base di uno sforzo così grande, perché praticamente nessuno lo so. Non abbiamo riconosciuto nessun tipo di cassa infortuni, perché essendo consulenti noi non ci possiamo far male, se ci dovessimo far male diventa un macello, insomma ce ne sono vari di problemi nella nostra professione. Quando mi sono fattata alla gamba non ho potuto andare a lavorare fuori come intervisto, non potevo nemmeno stare a seduta perché mi faceva male e ho chiesto all'Inps, non mi hanno riconosciuto niente dicendo che lavoratori autonomi, professionisti, con partita iscritta alla gestione separata, non hanno questo diritto. Si fa molta fatica ad avere per esempio per le donne una maternità decorosa, la malattia, noi poi come professionisti addirittura versiamo uno 0,5 che dovrebbe essere riconosciuto per la malattia e poi a noi non abbiamo diritto ad avere la malattia e quindi non ci viene riconosciuta. Se dobbiamo parlare di partita IVA per esempio noi non possiamo scaricarci nulla perché facciamo parte di una categoria che è i consulenti artigianali, molto generico, che non si scaricano nulla. Penso che un lavoratore dipendente, un futuro, può diventare anche libero professionista, allora cambia di cassa, cambia di tutto, resume, è complicato, come possiamo riunire? Questa è una situazione assurda perché ti ritrovi a versare molto per molto tempo perché stiamo parlando di un quarto del proprio reddito e poi ad ottenere nulla, è una situazione che a me ricorda una truffa, cioè io mi ritrovo appunto a dare e poi a non ricevere nulla.